Assessore, allora ieri un incontro diciamo preparatorio a quello che sarà il Natale 2017. Sì, ieri è uno dei diversi incontri che abbiamo avuto perché già abbiamo per il Natale abbiamo iniziato a lavorare già da diverso tempo però ieri abbiamo messo a punto tutto un po' il programma e ci siamo riuniti con le associazioni di categoria rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti, la Proloco di Fani, il comitato del centro, ci siamo riuniti per definire le ultime diciamo le ultime fasi della programmazione del Natale che quest'anno quindi abbiamo sempre diciamo ripreso la collaborazione con tutte queste associazioni, con tutti questi soggetti per creare delle sinergie tra l'amministrazione comunale e il mondo dei commercianti. Quindi anche quest'anno l'amministrazione ha deciso di sostenere fortemente questa iniziativa del Natale per dare lustro alla città, per dare sia per la città, per i commercianti, non solo anche quelli del centro ma anche quelli dei quartieri vicini perché per dare anche un impulso alle attività commerciali. Chiederete un impegno delle forze economiche della città, a fronte di che cosa però se si può dire nell'ambito del possibile? Ma a fronte di che cosa? Sicuramente a fronte di una vivacità della città, il nostro obiettivo è quello di farne parlare sia a livello locale, quindi nella nostra provincia dove sappiamo che ci sono dei mercatini molto seguiti, gente che viene anche da fuori, quindi l'obiettivo è portarla un po' anche nella nostra città e quindi rendere una città viva è importante e per questo sono importanti le economie, ovviamente le economie del Natale lo sappiamo sono composte da una grossa fetta che mette l'amministrazione comunale ma anche da un supporto importante che danno i commercianti. Però una data la possiamo dare, almeno una, una data certa, un appuntamento lo possiamo svelare? Ma guarda, una data che possiamo svelare, che direi che non è segreta, è quella del momento dell'inaugurazione del Natale di Fano, due anni bellissimi, anche il terzo anno sarà veramente stupendo, quindi preparatevi già fin d'ora, quindi diamo la data del 3 di dicembre, tutti in piazza 20 settembre perché ci sarà una magnifica accensione dell'albero di Natale del Signore Sergio. Grazie.